Ciao amiche ed amici, mi sono presa una pausa, adesso vi faccio vedere dove sono, mi trovo qui sotto i giardini di Poseidon che naturalmente sono chiusi per via del covid, le piscine sono tutte chiuse però hanno aperto la spiaggia, guardate che bella l'acqua, bellissima, stupenda, ecco qua vedete i lettini, i ombrelloni sono distanziati, la spiaggia è bellissima, abbiamo pagato un pochino però si sta bene, ecco qua, aspettate, è splendida l'acqua, veramente splendida, oggi è una giornata magnifica, poi è domenica, c'è un po' di gente perché qui da Napoli è un attimo venire qui, ok, detto questo vi mando un saluto, la mia passamadre sta bene, l'ho rinfrescata prima di partire quando sono bellissimi i giorni, quando rientro la rimetto all'opera, sapete che la passamadre se vi allontanate anche dieci giorni potete rinfrescarla al doppio, dando il modo di nutrirsi, quindi mettendo le dosi doppie, sul canale trovate anche un video su come lasciare la nostra passamadre quando stiamo in vacanza, io me la porto dietro quando di solito vado in montagna, che sono due giorni, me la porto su così, magari posso fare anche una pizza con le patine dell'alcolattico, bene amici, un saluto a tutti, un bacione grande grande, buona domenica, ci sentiamo presto, ciao ciao! Grazie